C'è una bella bagarre e c'è l'attacco all'interno e allora vediamo se Jordan tiene poco finito e non lo so, non lo so qua, non lo so e allora ancora G3G4 in tinta, batteria numero 12 Bona, One, Manzi, Pistoia, Negro e Menotti, andiamo a vedere il team crearsi in doppietta nuovamente in doppietta, andiamo a vedere la tabella numero 270, guarda, dovrebbe essere 69 con Manzo Negro, Negro al comando davanti al suo compagno di scada per il rival team di Inizio e Verona in terza posizione con Leonardo Nesi, Nesi con la tabella 128, non molla e Nesi più di terza davanti a tutto il 279 e Prezio, ricorda G3G4